cari amici domani è natale e saremo tutti più buoni o forse no comunque oggi non è natale e non mi va affatto di essere buono specialmente nei confronti di chi non se lo merita affatto Merkel, Macron, Juncker, Dombruskis, Moscovici, Oettinger, Verhofstadt, Christine Lagarde, Mario Draghi, Ursula von der Leyen senza dimenticare Ciampi, Andreatta, Prodi, Amato, Monti, Napolitano e chi più ne ha più ne metta insomma i paladini dell'austerity, dell'austerità, un'austerità però basata su regole di comodo, su parametri assurdi un'austerità appositamente studiata per impoverire gli stati con la moneta a debito, per spogliarli della loro sovranità per cancellare le costituzioni nazionali e con esse i diritti dei cittadini, dei lavoratori e delle fasce più povere della popolazione la povertà è aumentata in tutti i paesi della UE, pensate che in Germania la locomotiva d'Europa, la cosiddetta locomotiva d'Europa anche se sarebbe meglio definirla la sanguisuga d'Europa, comunque anche in Germania, pensate che anche in Germania i poveri hanno raggiunto una cifra esorbitante, ben 12 milioni di persone che corrispondono al 15,5% circa dell'intera popolazione ed anche in Germania i ricchi diventano sempre più ricchi mentre i poveri diventano sempre più poveri i dati dimostrano che l'1% dei tedeschi più ricchi controlla un quinto del patrimonio netto nazionale il 10% ne detiene il 56% mentre il 50% della popolazione, cioè quasi 40 milioni di persone annaspa per non restare indietro e non affogare in un mare di squali famiglie numerose, madri sole e anziani sono queste le persone che hanno la più alta probabilità di toccare con mano i drammi della povertà. Ecco è a loro, a tutte le persone e le famiglie in difficoltà, agli anziani, alle persone sole, ai poveri, ai disabili, insomma a tutti e anche a tutti gli invisibili poveri del nostro paese, ma anche di tutta l'Unione Europea, voglio dedicare un pensiero speciale per questo Natale con l'augurio che il nuovo anno possa portare anche ad un risveglio delle coscienze che possa poi portarci anche a liberarci dall'Unione Europea e dal suo disegno satanico in nome di una società dove i ricchi siano meno ricchi e che i poveri non siano più poveri una società in cui la priorità non sia il mero guadagno ma bensì il benessere dei suoi cittadini, insomma una società sana. Scusate la parentesi ma era doverosa. Detto questo torniamo agli euro burocrati che sono sempre pronti a giudicare sugli zero virgola, a minacciare i paesi più deboli e indebitati dell'eurozona con la complicità ovviamente dei mercati e delle agenzie di rating, gli stessi signori che poi stilano delle pagelle, che inviano letterine intimidatorie ai paesi per così dire indisciplinati, gli stessi che minacciano le procedure di infrazione. Sono gli stessi che giudicano, fanno i conti in tasca agli stati e che poi obbligano i governi a politiche economiche sanguinarie. Pochi sanno però che la casta degli eurocrati, degli euroburocrati, alimenta e mantiene anima una macchina imponente che è l'Unione Europea che spreca le risorse dei cittadini, insomma che si mangia montagne di soldi. Come rivela un'inchiesta della Verità sulle spese pazze dell'Unione Europea e sul progetto di bilancio 2020, l'anno prossimo la mostruosa burocrazia targata Bruxelles-Strasburgo costerà ai cittadini europei ben quasi 154 miliardi di euro. Insomma gli stessi che predicano ma che soprattutto impongono la disciplina di bilancio poi sprecano a più non posso. Insomma predicano bene ma razzolano molto molto male. Nel 2020 il servizio diplomatico dell'Unione Europea costerà alla collettività più di 730 milioni di euro, 456 dei quali per mantenere 190 delegazioni dell'Unione Europea sparse nel mondo. Gli stipendi del personale di queste delegazioni ammontano a 133,7 milioni di euro ai quali si aggiungono 79,6 milioni per consulenti ed esperti esterni. Il personale che opera a Bruxelles ci costa 187 milioni di euro per non parlare degli affitti annuali spropositati che l'Unione Europea paga per mantenere le proprie sedi a cominciare da quella di New York che ci costa la bellezza di 2 milioni e 105 mila 866 euro all'anno. Follia pura follia ma si sa no che è bellissimo fare i ricchi con i soldi degli altri specialmente poi quando puoi anche minacciare i tuoi stessi benefattori. Puoi per di più minacciare chi ti regala i soldi da sprecare. Magnifico no? Nell'Unione Europea è tutto ribaltato. Nell'Unione Europea tutto funziona al contrario. Ma adesso veniamo alle spese pazze di Bruxelles. Le previsioni di spesa per il prossimo anno della Commissione Europea si aggirano sui 2 miliardi 354 milioni 228 mila euro, 1 miliardo 109 milioni 577 mila 441 euro del Parlamento Europeo, 370 milioni 261 mila euro del Consiglio Europeo. Inoltre l'Unione Europea continua a mantenere a suon di denaro enti completamente inutili come il Comitato Economico Sociale Europeo Cese e il Comitato Europeo delle Regioni CDR che hanno sede a Bruxelles ed emettono pareri non vincolanti. In sostanza i due comitati nel 2020 ci costeranno 143 milioni di euro il primo, 102 milioni di euro il secondo. Impennate le spese del personale di alcuni milioni di euro, così come le voci relativi agli affitti e all'acquisto delle attrezzature. Il prossimo anno il Comitato delle Regioni riceverà ben 76,8 milioni di euro per pagare i suoi 530 dipendenti e 25,3 milioni per affitti e spese varie. Il tutto è bene ribadirlo per un ente sostanzialmente inutile. Ed ora passiamo agli sprechi del Parlamento Europeo. Come riporta Business Insider nel 2013 il Parlamento Europeo aveva messo a budget per i 751 euro deputati che sarebbero stati eletti l'anno successivo 1,79 miliardi di euro. Cinque anni dopo il preventivo di spesa è salito a 2 miliardi di euro, 200 milioni in più. Tradotto, nel 2013 il Parlamento Europeo costava ad ogni cittadino europeo 3,55 euro all'anno. Nel 2019 il costo salirà a 4,22 euro all'anno. Siete indignati, lo so, ma il peggio deve ancora avvenire. E sì, perché lo spreco per antonomasia è quello della tripla sede del Parlamento Europeo, ovvero Bruxelles, Strasburgo e Lussemburgo. Pensate che queste sedi costano ai cittadini dell'Unione Europea dai 156 ai 204 milioni di euro all'anno. Questo senza considerare che la sede di Strasburgo è costata 600 milioni di euro per una struttura che resta chiusa per ben 321 giorni all'anno. 436 sono i chilometri che separano Bruxelles, dove si riuniscono le commissioni, si radunano partiti e funzionari, da Strasburgo, dove si tengono le sessioni plenarie, una volta al mese. In mezzo c'è Lussemburgo, il Gran Ducato che ospita la terza sede dell'Europarlamento, quella prettamente amministrativa con uffici del Segretariato Generale. Nel 2014 la Corte dei Conti stimava i costi dei trasferimenti tra Bruxelles e Strasburgo in 114 milioni di euro. Pensate che ogni mese tra Bruxelles e Strasburgo si muovono 5 mila persone diverse volte al mese. Insomma, uno spreco economico enorme aggravato dall'inquinamento prodotto proprio dagli spostamenti. L'odissea tra Bruxelles e Strasburgo in aereo, treno, auto, camion, solo per trasportare ogni volta i documenti del Parlamento, produce 19 mila tonnellate di CO2 l'anno. Un'auto media ne consuma 86 kg per i 722 km che dividono Milano da Napoli. Un paradosso, considerando che la UE è impegnata a ridurre le emissioni di anidride carbonica del 40% entro il 2030. Tutto questo avviene mentre i rappresentanti della Commissione europea si riempiono la bocca di belle parole e di retorica climaticamente corretta. E dal momento che, come si suol dire, piatto ricco mi ci ficco, voli gratis per tutti gli eurocrati! Secondo un documento pubblicato nella banca dati delle gare d'appalto comunitarie, Bruxelles ha aumentato di 3,5 milioni l'importo che può essere speso nel nuovo contratto per i voli AirTaxi. Il nuovo importo massimo di 10,71 milioni di euro per il contratto che va dal 2016 al 2021 rappresenta un aumento del 50% sul valore originale di 7,14 milioni di euro. Voli che ovviamente vengono rimborsati in toto con i soldi dei contribuenti europei. Cari amici, quando ci libereremo dell'euro e dell'Unione europea sarà sempre troppo tardi. Per oggi mi fermo qui. Auguro a voi e alle persone che amate un buon Natale e buone feste. Un saluto dal vostro Matteo Di Micheli e vi ricordo che questo canale si sostiene solo grazie alle vostre donazioni. Ciao a tutti e ci vediamo al prossimo servizio!